Un buongiorno a voi dal vostro professor Strunz, Miau, Miau. Titolo I lessi. Il più grande poeta e letterato del nostro secolo tiene un seminario sull'arte del parlare e del poetà. Alla fine della sua discussione chiude dicendo Fui uomo fin dalla nascita, i vissi, i mangiai e i lessi. Così, dopo gli applausi, tutti i convenuti si spostano nella sala del branch per qualche stuzzicheria e bontà. Sul tavolo tante prelibatezze derivate dalla cucina moderna cotte esclusivamente a lesso e cazzonerie fritte dei tempi nostri. Vedendo un ragazzo abbuffarsi di sole fritture, il grande poeta a lui si avvicina e dice Homo sapiens, come mai tu ostenta con tanto amore per i fritti? E lui, in verità, pensava a quello che lei ha detto. Così, il grande letterato, lusingato, onorato e incuriosito chiede a cosa stesse pensando mentre mangiava. E lui, vede anche i vissi, anche i mangiai, ma i lessi non mi piacciono proprio. Ciao.